Attilio Urciuolo, e-commerce e web design Ma anche agli amministratori della città Chissà se almeno quel giorno si colgeranno Delle condizioni in cui giace la strada di via San Francesco Saverio Certo rispetto a tanti in Curia Non ci sono santi che tengano Sempre con uno spirito verso la santa dei miracoli La santa veramente che si prodiga per i casi disperati per questa città Domani abbiamo la festa della mamma Quindi qua ricorre la benedizione delle medagliette per i bambini E abbiamo questa preghiera per la mamma Stasera incomincia il nomenario di Santa Rita Alle 17 il rosario Tutti i fedeli conoscono bene i nove giorni di triduo verso la santa Ogni sera alle 18 arrivano delle associazioni a ricorrenza per la santa Per portare un omaggio folareale Oggi ci saranno i marinai Sì sì stasera ci sono i marinari Poi ci sarà l'arcicombratenne della Madonna Assunta Ci sarà la Cosmopol E ci sono varie associazioni che si percuotano ogni anno Ad arrivare qua alla santa Peccato che c'è degrado totale attorno alla chiesa Infatti vedo che l'amministrazione sta peccando un po' Ecco qui giù insomma c'è un degrado E speriamo che arrivano un po' a pulire Strade dissestate, erbaccia, topi, rifiuti Insomma non è il rispetto per la chiesa E infatti è la verità Spero che il sindaco Foti si accelera con l'amministrazione Di arrivare qua giù insomma per pulire un po' Per far pulire un po' E poi attenzione a chi si presenta Che bussa alle case degli avvenizi Chiedendo un po' per la santa Tutti sono autorizzati Esatto non è autorizzato nessuno Ecco è preferibile che vengano qui in chiesa O che li danno direttamente a me Come vedi abbiamo rinnovato un po' Tutto l'interno della chiesa Abbiamo verniciato Abbiamo fatto l'impianto elettrico Grazie veramente ai fedeli Che ci sono sempre vicino Grazie a tutti